Sei persone, tre uomini e tre donne sono state destinatari all'alba di oggi di una misura cautelare perché ritenute a vario titolo responsabili di una serie di furti in abitazione nel Pescarese mediante raggiri a danno di persone anziane indifese facendosi credere amici di famiglia, tecnici d'operai ed in un caso persino appartenente all'arma dei carabinieri. L'operazione portata a termine nella mattinata di oggi dai militari dell'arma del comando provinciale di Pescara è stata coordinata dalla procura della Repubblica del Capoluogo Adriatico e le misure cautelari emesse dal GIP su richiesta del PM titolare delle indagini. Quattro persone sono finite in carcere, due agli arresti domiciliari. Le indagini erano iniziate nella primavera del 2020 ed i reati scoperti sono stati commessi tra il mese di dicembre 2019 e l'agosto del 2020. Come ricostruito dagli inquirenti, prima di agire gli indagati studiavano le vittime, le abitudini, le amicizie e le frequentazioni in modo da rendersi maggiormente credibili. Il gruppo agiva sempre in squadre formate da tre persone in modo da entrare nelle abitazioni e saccheggiarle in pochi minuti portando via oro ed oggetti di valore ma anche tessere bancomat o carte di credito con cui venivano prelevate cospicue somme di denaro e venivano effettuati costosi acquisti, negozi di abbigliamento ed elettrodomestici. Gli indagati si spacciavano per tecnici del gas e in alcune occasioni anche per militari dell'arma.